Non hanno corso bene di recente, ma tutti e due hanno chance. Non decido di qualità, Love Gardens e anche di schera. 2060. Macchina che... Linea e concorrenti. Poi in difficoltà Mimmo Zanca con Lucez che tira. Adesso l'appoggia a rete. Rinuncia Love the Children alla prima fila. Stacco della macchina con dall'esterno il numero 4 di Light VL che cerca di convergere allo steccato nei confronti di Lucrezia Gio. Poi l'esterno Love Gardens che finisce con lo sbagliare. Terzo in corda a Lucez. L'esterno Love the Children davanti al set di lista di Ucrassa. All'interno è partito con calma Lucy May che precede il trio. Trio 14.6 per i primi 200 e Lucrezia Gio va a rilevare Light VL. Adesso arriva Love the Children che dà una puntata a palo lontano. Love the Children dopo 400 metri di gara è il nuovo battistrada in 34. Fila indiana adesso. Love the Children. Lucrezia Gio. Terzo in corda c'è Light VL davanti a Lucez. Poi il set di lista di Ucrassa. Poi Lucy May a chiudere. Livia trio. Ha rallentato Love the Children. 16.4. Nessuno muove. Tutti aspettano la mossa di Lucy May. Mossa che arriva adesso quando i cavalli sono sulla retta opposta di tribune. si allarga Lucez per prendere la schiena di Lucy May che così va decisamente adesso allargo con un 16. Love the Children intanto è battistrada. Lucy May arriva. Lucrezia Gio è messa bene dov'è. Anche Lucez ha preso la schiena buona. I migliori sono lì. Quando i cavalli sono a un chilometro dall'arrivo. Love the Children continua a risparmiare. Lucrezia Gio è sempre lì seconda. Lucy May è nella posizione Bellei. Lucez in schiena ha spostato anche Livia trio. 16 anche di quel poletto. E così Lucy May adesso gli 800 finali va a dare un po' di sveglia. 15.7. Love the Children che adesso allunga progressivamente. Lucy May. Bellei sempre lì. Gruppo davvero compatto. Nessuno vuole cominciare a spingere. E così. I cavalli ai 600 finali con un parziale in 15.9. Adesso Lucy May allunga. E allora Love the Children vuole reagire. E si va adesso a guide mollate. Perché tutti vanno più forte. Compreso davanti Love the Children che spara un 14.5. Ma Lucy May sembra avere del buono. Enrico Bellei. Una testa davanti a Love the Children e Marcello Matti. Poi Lucrezia Gio dalle retrovie. Prova ad avanzare anche in lista di Ucrasse. Love the Children e Lucy May che sono ancora alle prese. Non è passata Lucy May. Love the Children problemi di meccanica. E deve essere ripreso in mano a Lucy May adesso così passa. E con l'aiuto della reddittura si distende il doppio per Enrico. Nella sezione non campionato. Va a vincere Lucy May per il secondo posto. E Lucrezia Gio. Terzo Love the Children con qualche problema. 1.17.7. 34.34. 1.62 la quota. E la legge di Enrico Bellei anche per la schedina Bussette e anche per la sesta di Montegiorgio. 2.32 la quota. 3.35 la quota. 5.35. 9.75. 9. 나�isation lite. 9.95. �도em. 13.65.